Entro marzo partiranno gli screening antitumorali alla cervice uterina, al colon retto e alla mammella. Un importante risultato, questo raggiunto dal direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante, che ha affidato alla dottoressa Grazia Gentile il coordinamento della struttura aziendale che dovrà gestire le varie attività sull'intero territorio salernitano. La centrale operativa del progetto Viva è stata individuata a Nocere Inferiore. È dall'ex direzione generale della Salerno 1 che partiranno le lettere e le telefonate per sensibilizzare le persone a sottoporsi a piccoli ma importantissimi test. Sono centinaia di migliaia le donne per quanto riguarda la cervice uterina e la mammella, ma anche gli uomini per quanto riguarda il colon, che saranno raggiunti dagli inviti a presentarsi nei vari distretti per gli esami. Un pap test in dolore piuttosto che una mammografia o una verifica del sangue occulto nelle feci potrebbero risultare salvavita. Abbiamo finalmente una struttura, una vera e propria cabina di regia, nella quale gli operatori hanno il polso dell'intera situazione dell'ASL Salerno. L'unificazione si può dire che per quanto riguarda il piano della prevenzione oncologica, grazie al direttore Squillante, è stato pienamente realizzato. La prevenzione produce salute, un piccolo investimento economico, un minimo di impegno del cittadino utente, ci consentono di arrivare in tempo, di evitare il cancro, di evitare i costi umani, malattie gravissime, di evitare la morte o di evitare comunque dei lunghissimi costi per la sanità. Quando è che partirà tutto, anche se in questi giorni le operazioni sono già state avviate? Sì, il capitolato di aggiudico della gara della spedizione inviti si chiude il 25 febbraio. Siamo convinti che dal 1 marzo tutte le donne interessate allo screening della cervice uterina e del seno, per la prevenzione quindi del tumore del collo dell'utero e per la prevenzione del tumore del seno, saranno raggiunde dall'invito. Un'altra cosa importante potrebbe essere anche fare dei controlli mirati, anche grazie alle sinergie territoriali. Perfetto, l'alleanza fra le istituzioni è fondamentale. Oggi lavoriamo con la consulta degli immigrati e con l'assessorato provinciale alle politiche sociali e sanitarie per fare interventi mirati su popolazioni molto fragili come appunto gli immigrati. Ma faremo anche un censimento di tutte le strutture residenziali, di tutti i centri di aggregazione, di dove vanno le persone e perché no le fabbriche, le pubbliche amministrazioni, per fare delle campagne dirette sul posto, proprio per raggiungere quanto più è possibile la popolazione.